buongiorno a tutti sono vincenza andreini dell'ente turismo della malesia innanzitutto grazie un grazie enorme a volo online che mi dà la possibilità di arrivare a voi nelle vostre case in questo momento così un po difficile per tutti fermo allora vi ho fatto vedere la foresta le caratteristiche del sarawak quindi le grotte gli indigeni del sub del saba quindi il monte le varie etnie e il fiume china batangana e adesso invece spendo due parole per parlarvi degli oranghi che rientrano nel contesto della foresta l'orango è un primate che ha un dna quasi identico a quello umano e purtroppo in via di estensione in malese ci sono alcuni centri di riabilitazione più importanti sono questi che vediamo uno quello di bukit-merah che è il più piccolo ed è l'unico che troviamo nella zona peninsulare gli altri due più importanti sono a semen go ea sandakan allora in realtà quando andiamo in questi centri di riabilitazione non vediamo un granché nel se non che facciamo una bella camminata nella foresta arriviamo su queste piattaforme in legno e da lì aspettiamo il momento in cui i ranger chiamano gli oranghi e gli danno da mangiare lo so se riuscite entra a vedere nella tra gli alberi ci sono dei punti delle piattaforme in legno dove i ranger mettono da mangiare l'orango è un è un animale vegetariano e non mangia carne mangia frutta verdura pane e quindi si ha modo di vederli e si viene invitati ovviamente al silenzio per non distrarli per lo spaventarli e aggiungo due curiosità che non c'entrano niente ma riguardano proprio strettamente gli oranghi allora nonostante abiti nella foresta pluviale tropicale quindi un posto umido e con tanti a con tanti corsi d'acqua ha paura della pioggia pensate un po quindi tende a costruirsi il suo nido molto protetto tra le fronde degli alberi e si pensa che abbia sviluppato le mani e le dita prensili proprio per muoversi da un ramo all'altro senza dover toccare il terreno e senza doversi bagnare i piedi l'altra cosa che mi ha colpito tantissimo di questi animali è l'istinto materno che conferma la sua somiglianza all'essere umano questa è una mamma tengono i bambini piccoli allora innanzitutto hanno partoriscono un piccolo per volta dopo una gestazione tra gli otto e otto mesi e mezzo e però non è insolito vedere una mamma con più cuccioli perché tiene le femmine con sé fino a quando hanno sette otto anni e mentre le femmine stanno con la mamma la mamma insegna alle figlie come curare i fratellini che a mano a mano nascono e quindi vedete comunque questi atteggiamenti estremamente affettuosi che vi ripeto a me ricordano tanto tanto noi mamma italiane insomma italiane mammiferi del mondo allora sto per terminare la mia presentazione dopo quello che vi ho raccontato credo che possiate comprendere come questo paese abbia degli aspetti che vanno bene un po per tutti i gradi di turista per tutte le tasche per tutte le esigenze non ultimo anche per i bambini magari i bambini in questo caso bambini piccoli non li porteremo a scalare i pinnacoli di gunungunu o non li porteremo nel mezzo della foresta però sicuramente è un viaggio che va bene anche per i più piccoli ed è una lezione di botanica di cultura di di geografia turistica a cielo aperto e poi possiamo corredare il nostro viaggio di diverse varianti tenuto conto che avrete visto che le ricchezze portanti di questo della valese sono la cultura il mare e la foresta quindi intorno ci possiamo mettere tutto poi quello che vogliamo dal benessere che chiaramente ricordiamo siamo in un paese orientale quindi dove massaggi trattamenti di bellezza o di relax sono molto molto attenti e molto diversi molto molto vari e si trovano praticamente ovunque turismo sportivo campi da golf a livello internazionale shopping cibo anche in questo caso non non vi trattengo troppo per parlarvi anche della cucina però è veramente molto baria vi dico solo che il piatto diciamo più tipico è il nasile mac che è quello che vediamo nella fotina piccolina che è riso cotto nel latte di cocco è servito con pezzi di pollo oppure gamberetti oppure pezzi di manzo marinati che hanno però vengono marinati in un modo particolare servite poi con delle acciughe essiccate molto croccanti noccioline e pezzi di cocomero e di solito anche l'uovo sodo è un piatto è il loro piatto principale quello che per noi potrebbe essere spaghetti pomodoro per farvi capire e c'è il pericolo di diventarne addicted come la sottoscritta allora adesso vi mando quest'altro video che vi ripeto insieme all'altro è secondo video più recente fatto dall ente turismo malese e chiudo con prima casi prima casi in lingua malese vuol dire grazie grazie veramente sentito per avermi seguito fino qui spero spero di aver dichiarito cosa cosa da offrire questo paese qui vedete oltre al mio al mio contatto mail vedete anche la pagina facebook e vi invito a mettere mi piace perché è lì che metto gli aggiornamenti in modo più immediato abbiamo poi un archivio fotografico un archivio video e chiaramente i social media gestiti invece dal quartiere generale quindi non non da meglio in italia gestisco solo la pagina facebook e abbiamo anche una galleria di dei client a che l'ultimo link in basso e quindi li troverete una penso una cinquantina di titoli e perché ogni volta ne aggiungono uno sono scaricabili in pdf e quindi se avete bisogno se dovete condividerli con qualcuno ecco sappiate che li trovi a trovate anche materiale dei client informato informato appunto pdf allora io credo di avervi detto tutto sono rimango comunque a disposizione se aveste bisogno di approfondimenti di chiarimenti se per caso non ho risposto a tutto nella nel mio racconto ringrazio ancora volo online per l'opportunità ringrazio voi per sia personalmente che a nome dell'ente vi sono vicina perché so so cosa avete fatto so cosa significa fare la gente di viaggio e auguro a tutti con molta forza che dopo questa questo dramma che stiamo vivendo la vostra professionalità venga riconosciuta nel modo che merita io ho sempre fatto per voi continuerò a farlo e grazie a tutti stay safe stay strong together ciao grazie a tutti